L'ingegnere Luca Gianmichele del settore lavori pubblici del Comune di Vasto consegna del cantiere per la ristrutturazione dell'asilo Carlo della Penna. Quali i lavori che verranno realizzati? Il polo dell'infanzia Carlo della Penna sarà costituito da praticamente due scuole. Un asilo nido con la realizzazione di tre sezioni capaci di ospitare 52 bambini da 0 a 3 anni e un'altra zona scolastica dedicata a scuola dell'infanzia in cui ci saranno sei sezioni che potranno ospitare le attuali sezioni della limitrofa scuola che verrà qui trasferita in cui verranno ospitati 120 bambini dai 3 ai 6 anni per cui per la prima volta realizzeremo un polo dell'infanzia che qui in zona è una novità e che risponde pienamente alla volontà del benefattore di questa struttura che realizzò all'epoca la struttura appunto e la donò al Comune di Vasto per i bambini della città. Ecco, qui ci troviamo all'interno dell'atrio di quello che è stato l'atrio dell'asilo Carlo della Penna. Qui verrà abbattuta tutta la struttura? Sì, la struttura dopo attente valutazioni e indagini si è deciso di proporre una demo ricostruzione ossia verrà realizzato un edificio del tutto analogo per dimensioni, per volumi e per spazi con quello storico anche cercando di assecondare la volontà della cittadinanza molto legata alla memoria di questo edificio. Infatti verranno conservate il bronzo verrà recuperata la vetrata della cappella verrà recuperata la fontana monumentale verranno ripulite, restaurate e ricollocate e l'edificio ovviamente sebbene abbia, come ho spiegato le caratteristiche molto simili a quello preesistente avrà tutti i comfort e rispetterà la normativa attuale quindi la ripartizione degli ambienti e degli spazi le attività sono organizzate secondo la normativa attuale e anche la didattica che oggi si propone ai ragazzi. Quanto tempo pensate di terminare i lavori? Dunque, oggi consegniamo i lavori con dei tempi che dovrebbero arrivare a riconsegnare alla città per l'estate 2025 la struttura completamente nuova.